Lettura, Vangelo, e commento. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo. Sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui. Tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. E' diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca. Poche vedranno un fatto mai a essi raccontato. E comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? E' cresciuto come un virgulto davanti a lui. E' come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza. Per attirare i nostri sguardi. Non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini. Uomo dei dolori che ben conosce il patire. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato. Percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe. Schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui. L'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare. E non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello. Come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. E non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza. Ne vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. Vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. E si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino. Perché ha spogliato se stesso fino alla morte. Ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti. E intercedeva per i colpevoli. Dal Vangelo secondo Giovanni Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli si fece innanzi e disse loro Chi cercate? Gli risposero Gesù, il Nazareno. Disse loro Gesù, sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro sono io indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo Chi cercate? Risposero Gesù, il Nazareno. Gesù replicò Vi ho detto Sono io. Se dunque cercate me lasciate che questi se ne vadano perché si compisse la parola che egli aveva detto non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simone Pietro che aveva una spada la trasse fuori colpì il servo del summo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro Rimetti la spada nel fodero il calice che il padre mi ha dato non dovrò berlo. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù lo legarono e lo condussero prima da Anna egli infatti era suocero di Caifa che era summo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simone Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal summo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del summo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo noto al summo sacerdote tornò fuori parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il summo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose io ho parlato al mondo apertamente ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo così rispondi al summo sacerdote? Gli rispose Gesù se ho parlato male dimostrami dov'è il male ma se ho parlato bene perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa il summo sacerdote. Intanto Simone e Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero non sei anche tu uno dei suoi discepoli egli lo negò e disse non lo sono. Ma uno dei servi del summo sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio fece chiamare Gesù e gli disse sei tu il re dei giudei? Gesù rispose dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù il mio regno non è di questo mondo se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse dunque tu sei re? Rispose Gesù tu lo dici io sono re per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato che cos'è la verità e detto questo usci di nuovo verso i giudei e disse loro io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei. Allora essi gridarono di nuovo non costui ma Barabba. Barabba era un brigante. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano salve re dei giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro ecco io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro ecco l'uomo. Come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono crocifiggilo. Crocifiggilo. Disse loro Pilato prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù di dove sei tu. Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato non mi parli. Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i giudei gridarono se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fare si mette contro Cesare. Udite queste parole Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostroto in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei ecco il vostro re. Ma quelli gridarono via via crocifiggilo. Disse loro Pilato metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli portando la croce si avviò verso il luogo detto del cranio in ebraico Golgota dove lo crocifissero e con lui altri due uno da una parte e uno dall'altra e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce vi era scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città era scritta in ebraico in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato non scrivere il re dei giudei ma costui ha detto io sono il re dei giudei. Rispose Pilato quel che ho scritto ho scritto. I soldati poi quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica ma quella tunica era senza cuciture tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo perciò dissero tra loro non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca così si compiva la scrittura che dice si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte e i soldati fecero così stavano presso la croce di Gesù sua madre la sorella di sua madre Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala Gesù allora vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava disse alla madre donna ecco tuo figlio poi disse al discepolo ecco tua madre e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé dopo questo Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura disse ho sete vi era lì un vaso pieno di aceto posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bucca dopo aver preso l'aceto Gesù disse è compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito era il giorno della parasceve e i giudei perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato era infatti un giorno solenne quel sabato chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui venuti però da Gesù vedendo che era già morto non gli spezzarono le gambe ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera egli sa che dice il vero perché anche voi crediate questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura non gli sarà spezzato alcun osso e un altro passo della scrittura dice ancora volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù Pilato lo concesse allora egli andò e prese il corpo di Gesù di andò anche Nicodemo quello che in precedenza era andato da lui di notte e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi come usano fare i giudei per preparare la sepoltura ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto ladunque poiché era il giorno della parasceve dei giudei e dato che il sepolcro era vicino posero Gesù parola del Signore lode a te o Cristo commento ciao a tutti e bentornati qui su Via della Fede in questo venerdì santo dove cercheremo di dare uno sguardo con un taglio un po' diverso quest'oggi al Vangelo cominciamo subito con il segno della croce nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo vieni o Santo Spirito nei nostri cuori e nelle nostre menti e concedi a noi tutti la tua intelligenza perché così possiamo comprendere meglio il Padre nostro che è nei cieli e Padre concedici anche oggi il tuo amore perché siamo bisognosi ecco quest'oggi per cercare di comprendere questo Vangelo molto lungo e complicato vorrei diciamo approfondire un solo aspetto cioè come Gesù riesce ad affrontare questa situazione cioè quando Giuda insieme diciamo al popolo e per ordine dei sacerdoti va a prendere Gesù e poi tutta quella che è il processo fino alla passione alla crocifissione e alla morte di Gesù come fa Gesù a vivere questa situazione questo aspetto cerchiamo quindi di portarlo nella vita di tutti di tutti i nostri giorni per riuscire a guardare la nostra vita con lo sguardo di Gesù per fare questo prenderò dei passi del Vangelo di Matteo che sono antecedenti proprio al Vangelo del giorno ora vediamo come è la terza volta che Gesù porta con sé i tre discepoli la prima volta era nella resurrezione della figlia di Gairo la seconda volta era nel momento della trasfigurazione e ora siamo proprio nel Gezzemani un momento di grande dolore per Gesù perché dice il Vangelo andò Gesù con loro in un podere e chiamato Gezzemani e disse ai discepoli sedetevi qui mentre io vado a pregare là quindi porta con sé i suoi amici e presi appunto con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e angoscia quindi vediamo come porta con sé questi amici in un momento dove lui avrebbe bisogno di sostegno perché comincia a provare una grande tristezza e una grande angoscia e lo dimostra il fatto che dice a questi suoi discepoli l'anima mia è triste fino alla morte state state qui e vegliate con me quindi chiede un supporto fisico e spirituale mentre lui va un po' più avanti che cosa succede? che cade faccia a terra e pregava dicendo padre mio se è possibile passi via da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu ecco questo momento di Gesù è forse uno dei momenti che ahimè diventano una presenza anche nella nostra vita cioè quando ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali non ci sappiamo comportare e non sappiamo bene come agire e la paura ci atterra come viene atterrato Gesù allora in questo momento cerchiamo come fa Gesù un supporto dagli amici oppure una diciamo così un sollevamento di questa angoscia dalla preghiera e Gesù ci fa comprendere bene come lui sta e come lui si trova perché anche noi possiamo comprendere come affrontare proprio questa situazione quando capita nella nostra vita dice poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno una sola ora vegliate pregate per non entrare in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole si allontanò una seconda volta e pregò dicendo padre mio se questo calice non possa passare via senza che io lo beva si compia la tua volontà poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti li lasciò lì si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole cioè Gesù si trova solo e cerca conforto nei suoi amici che però dormono il dormire è un po' come alienarsi da certe situazioni cioè quando questa situazione per noi diventa pesante il sonno ci porta lontano perché noi non vogliamo affrontare questa situazione così i discepoli che vedono vivere questo momento di grande tensione a Gesù si distaccano e Gesù li cerca li cerca più e più volte e emerge questa solitudine di Gesù una solitudine che è anche all'interno della preghiera perché questi amici non rispondono lui prega e il padre che dice niente fondamentalmente non risponde ora questo è un momento davvero di grande dolore per Gesù ed è un momento di grande dolore nella nostra vita quando viviamo delle situazioni dove siamo impotenti Gesù si abbandona completamente al padre in questa preghiera e misteriosamente in questo dolore Gesù trova la salvezza ed è un'indicazione importantissima nella nostra vita cioè Gesù ci dà un indizio che è un elemento di forza per affrontare situazioni così difficili dice poi si avvicinò ai discepoli e disse loro dormite pure e riposatevi ecco l'ora è vicina il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori alzatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino ora capite bene come Gesù prima è davvero atterrito ora invece non solo è determinato ma da un parla proprio diciamo che sia nell'episodio della trasfigurazione sia in questo nel Gezzemani si concludono proprio con questo invito di Gesù alzatevi i discepoli quindi che sostavano in un ambito di morte trovano tramite Gesù un movimento che ridà la vita e Gesù l'aveva ritrovato come cioè il padre non rispondeva gli amici non c'erano e come Gesù trova questa forza che prima non aveva ed è in grado di dare questa forza agli altri facendoli muovere uscire da quel torpore di morte beh con questa preghiera silenziosa che attesta un abbandono completo al Padre nostro celeste qui il Signore trova la forza e ci dice che anche noi possiamo trovare la forza per andare avanti in questo abbandono ecco dunque una resurrezione che troviamo in un abbandono in Dio che ci dà una forza e una pace ci concede quindi un miracolo all'interno di questa preghiera noi dobbiamo come Dio dimenticare le cose che ci danno dolore e che ci inchiodano tutte quelle ferite che non ci fanno andare avanti nella nostra vita e abbandonandoci fiduciosamente al Padre cioè se noi riusciamo a prendere queste cose che ci fermano e a porle in una fiducia in un Dio che ci ama e che c'è Padre ecco che vedremo anche noi questa resurrezione una resurrezione davvero fondamentale e che permette quindi di andare avanti come? Beh innanzitutto dobbiamo dire che anche Dio fa lo stesso cioè in ebrei 8.12 dice perché perdonerò la loro malvagità e non ricorderò più i loro peccati quindi abbiamo bisogno di dimenticare le cose che non ci fanno andare avanti guardando proprio l'esempio di Dio e trovare in questo dolore una resurrezione ora per farvi cercare di comprendere meglio questo aspetto dobbiamo guardare al risorto quando il risorto ci appare il risorto ci appare sempre facendoci vedere le mani però non sono mani risanate noi dobbiamo tenere presente che il corpo di Gesù Cristo è il corpo glorioso cioè il corpo perfetto eppure in questa perfezione ci sono i buchi nelle mani nel costato e nei piedi ora questo dolore ha trasformato il Cristo in ciò che lui doveva essere per noi un esempio d'amore perché noi potessimo guardare lui e seguirlo in quelle piaghe ecco perché figlio mio e figlia mia quando il dolore arriva nella tua vita non bisogna rigettarlo anche se il dolore è tremendo da vivere perché in quel dolore troveremo quelle piaghe del Cristo che cambieranno completamente la nostra vita potremo quindi guardare noi stessi con gli occhi con cui Dio ci ha visto prima dell'inizio della creazione con ciò che noi dovevamo essere un dolore che risana quelle sofferenze e ci trasforma in persone migliori che questo venerdì santo porti una grande benedizione a voi e alle vostre famiglie e noi ci aggiorniamo presto ciao a tutti e mi raccomando se vi è piaciuto un pollice in su e grazie da qui da via della fede e noi ci vediamo domani se questo video ti è stato utile ti chiedo di iscriverti al canale mettere un like e condividerlo con i tuoi amici grazie e a presto grazie